La mesoterapia Meso Air Plus consiste in un trattamento di biosimulazione che attraverso piccole iniezioni sottocutanee e intradermiche in dolori attiva biologicamente le cellule delle unità follicolari, invertendo la miniaturizzazione del follicolo e aumentando lo spessore e la crescita del capello. I composti Meso Air Plus Meso Therapy che applichiamo da Insparia contengono oltre 50 principi attivi, tra cui peptidi biomimetici, complessi vitaminici, sali minerali, acido ialuronico, importante per aumentare lo spessore della fibra capillare, aminoacidi, fattori di crescita naturali e antioxidanti essenziali per riequilibrare e nutrire il cuoio capelluto. Questi composti favoriscono la rigenerazione e la crescita dei capelli e sono un'opzione senza effetti collaterali per il paziente. Molti ci chiedono per chi si è indicato questo trattamento e se esistono eventuali controindicazioni per sottoporvisi. La mesoterapia Meso Air Plus non è indicata solo in caso di alopecia avanzata, poiché non fa crescere i capelli dove sono stati persi. Questo trattamento può essere applicato a tutti gli uomini e le donne che desiderano capelli con più vitalità, volume, lucentezza, resistenza e qualità. Una delle grandi virtù della mesoterapia dei capelli è la sua perfetta compatibilità con il trappianto dei capelli. Quali sono i benefici della mesoterapia Meso Air Plus? Il primo è sicuramente il più desiderato da tutti coloro che hanno sofferto di alopecia e si basa sul rallentamento della caduta dei capelli. In secondo luogo nutre il cuoio capelluto, fornendo ciò di cui ha bisogno in totale sicurezza. Al terzo posto promuove la rigenerazione dei capelli e infine, quarto e non meno importante, stimola la crescita dei capelli. Per maggiori informazioni sul trattamento di mesoterapia Meso Air Plus e per capire se può essere il trattamento più adatto a voi, potete prenotare una visita con i nostri professionisti.